ciao a tutti benvenuti quest'oggi nuovo video youtube molto speciale perché il primo quindi diciamo un po l'episodio pilota di una lunga serie di video circa 30 che usciranno da qui ai prossimi 30 giorni ora non so se state guardando questo video il giorno in cui è uscito per la prima volta se si sappiate che troverete i video nei prossimi 30 giorni se lo state guardando a distanza di giorni può essere che già siano finiti questi 30 giorni o meno fatto sta che è un progetto pilota dove in maniera molto esplicita in maniera molto diretta senza troppi fronzoli vada ad affrontare i 30 temi principali nel mondo dell'affitto breve dalla fiscalità a come automatizzare determinati processi alla terminologia alle stagionalità chi più ne ha più ne metta mi sono reso conto che racchiudere tutti i concetti chiave che possono far avvicinare una persona al mondo degli affitti brevi all'interno di un webinar di un'ora era impossibile così come farlo attraverso i nostri book impossibile quindi abbiamo deciso di portare la qualità e la quantità dei nostri contenuti gratuiti ad un livello superiore un qualcosa che mai nessun formatore ha fatto questo non sarà nient'altro in realtà che un breve corso sul mondo degli affitti brevi di maniera tale che possiate prendere consapevolezza sul tema da massimo esperto su questo tema di maniera tale poi che possiate se siete convinti poi passare al nostro corso di formazione che è il più venduto d'europa con oltre 4000 studenti e così facendo poter intraprendere poi un percorso serio però siccome non ci interessa avere persone che magari poi mollano il percorso ma vogliamo persone solo realmente motivate abbiamo detto va bene i 30 temi principali di questo business per far capire alle persone come funziona li esponiamo gratuitamente sul nostro canale youtube e quindi è una playlist è una serie chiamiamola così di video appunto che usciranno giorno dopo giorno quindi se già siete nel mondo degli affitti brevi questo può essere un grandissimo ripasso ma può anche essere in realtà uno scoprire tante cose nuove perché essere nel mondo degli affitti brevi è come dire gioco a calcio posso giocare a calcio all'oratorio con i miei amici posso giocare a calcio in serie d posso giocare a calcio in serie a champions league e anche ai mondiali per la nazionale quindi essere nel mondo degli affitti brevi può significare ho la casa di mia nonna che mi ha lasciato in eredità pubblicata su airbnb o può significare ho una società con oltre 100 immobili in gestione come può essere una delle mie società o può essere ancora di più sempre nel mio caso ho anche un franchising o una software company eccetera 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 quindi c'è sempre qualcosa da imparare io stesso imparo veramente ogni mese cose nuove pur essendo in questo business da tanti anni quindi sono sicuro che questa serie aiuterà tantissime persone chi c'è già dentro gli affitti brevi chi ancora non c'è chi stava pensando di avvicinarvi sì oltre a ciò c'è tantissima confusione nel mondo degli affitti brevi c'è chi ti dice che puoi fare sublocazione c'è chi ti dice che non puoi fare sublocazione c'è chi ti dice che è meglio il property management c'è chi ti dice che è meglio la sublocazione c'è tanta gente che non sa neanche che cos'è il property management e quindi in questa serie andremo a trattare tutti i sacrosanti temi che secondo me in anni e anni di esperienza e in oltre 4000 persone formate sono indispensabili per iniziare questo business non sto dicendo che terminata questa serie di video potrai andare ad acquisire immobili e fare paccate di soldi perché comunque ovviamente abbiamo oltre 70 ore di corso minuziosamente realizzato con tutta una serie di chicche che ovviamente vengono approfondite all'interno del corso però sicuramente sai le basi di questo business o meglio saprai le basi di questo business e potrai capire se vale la pena o meno nel tuo caso entrare con una formazione più approfondita oltre a ciò come ho detto prima ho voluto anche un po fare chiarezza perché tante persone si informano purtroppo su gruppi facebook pieni zeppi di gente che non sa di che cosa sta parlando siti web dove ognuno dice una cosa diversa dall'altra mentre io avendo oltre 100 immobili in gestione e se contiamo poi gli immobili all'interno del nostro franchising sono oltre 500 capite che ho visto praticamente tutte le regole regionali nazionali in italia in svizzera in portogallo in spagna in argentina chi più ne ha più ne metta ho visto e sentito tutte le ipotesi possibili immaginabili ho testato tutte le opzioni a livello di software a livello di oggettistica self check in e quant'altro quindi ad oggi posso darvi una panoramica realmente completa ma avendo messo le mani in pasta non avendo letto dei post su facebook o gestendo due case che mi ha dato in eredità mia nonna come purtroppo fanno tanti che poi pretendono di divulgare questo fantastico settore e ovviamente andremo a parlare sia delle cose positive che di quelle meno simpatiche è un grandissimo business molto bello ma ovviamente ha anche i suoi svantaggi senza peli sulla lingua ve li andrò a spiegare in questa serie se non mi conosci mi chiamo ludovico cianchetta vasquez sono italo argentino ho un'esperienza plurinale nel mondo degli affitti brevi prima ancora ho lavorato per una grossa società in ambito immobiliare ad oggi ho formato oltre 4000 persone con la mia bmb academy ho un franchising di affitti brevi che si chiama rental pro ho una software company per affitti brevi e per l'analisi dei dati di affitti brevi che si chiama badly go e poi tutta una serie di progetti satellite legati sempre al mondo degli affitti brevi ho formato appunto oltre 4000 persone e questo mi ha permesso poi di letteralmente capire come funziona questo business magari anche in zone dove non ho mai operato perché avendo seguito loro personalmente avendo visto la loro crescita i loro risultati che abbiamo tra l'altro testimoniato in centinaia di testimonianze che trovate qua su youtube posso veramente avere ormai una una conoscenza a 360 gradi di questo business anche laddove magari poi personalmente non ho operato la cosa bella è che all'interno delle nostre community abbiamo veramente la qualunque dal ragazzino di 16 anni che ancora non ha finito le scuole superiori all'ingegnere super affermato al medico alla anche alla persona famosa abbiamo diversi vip e influencer dalla persona di fascia di reddito bassa la persona molto ricca questo business letteralmente alla portata di tutti non c'è bisogno di avere patentini non c'è bisogno di avere licenze non c'è bisogno necessariamente di avere una partita iva e quindi è un business che accoglie un po tutti quanti non c'è bisogno di aver fatto percorsi di laurea di conoscere il mondo del marketing online insomma ecco perché è un business alla portata di tutti mentre se mettete una persona di 60 anni a fare e-commerce probabilmente sbatte la testa contro il muro mentre noi abbiamo anche casi studio di successo di persone over 60 quindi con più di 60 anni in europa poi sono famoso per aver portato questo business model alla portata di tutti tant'è che poi abbiamo vinto con la mia azienda diversi premi e riconoscimenti sono stato inserito da forbes nella classifica dei 30 imprenditori più promettenti d'italia grazie ovviamente al mio business di affitti brevi abbiamo appunto ottenuto diversi riconoscimenti sia a livello mediatico che è proprio a livello di veri e propri premi o partecipazioni ad eventi molto importanti oltre a questo poi ho anche fatto diverse iniziative benefiche ad esempio con le iene sempre ovviamente cercando di portare valore in ciò che mi riesce meglio ovvero nel settore immobiliare tant'è che in questo servizio con le iene ad esempio abbiamo preso un immobile ho preso ho pagato le mie spese un immobile per un una persona senza fissa dimora quindi cerco di far vedere anche il bello dell'affitto breve con iniziative benefiche la mia storia l'ho raccontata molte volte in diverse interviste io parto letteralmente da zero da una famiglia molto umile in periferia a milano inizio a fare una carriera all'interno di diverse aziende che però mi sta stretta e un'opportunità molto casuale vuole che mi venga proposto un immobile da dare ad una società immobiliare per la quale lavoravo però questo immobile non era compatibile per via delle dimensioni con l'affitto a studenti allora ho provato ad applicare lo stesso metodo con l'affitto breve il risultato è stato sin da subito eccezionale mi ha permesso di guadagnare nel giro di pochissimo già diverse migliaia di euro ed è in quel momento che ho deciso di mollare tutto e dedicarmi al 100% agli affitti brevi oggi a distanza di diversi anni comunque un portfolio di oltre 100 immobili di caratura anche abbastanza elevata quindi la mia storia è simile a quella di tantissime altre persone che sono letteralmente partite da zero senza esperienza e semplicemente seguendo un metodo che funziona lo ha replicato per tanti immobili ed oggi mi ha cambiato la vita e posso dire a soli 28 anni di essere multimilionario di avere un patrimonio veramente importante ma la cosa più bella non è l'essermi arricchito io ma innanzitutto aiutare la mia famiglia le persone vicino a me ma l'aver cambiato la vita di migliaia di persone ma non voglio star qui a flexare troppo ad auto celebrarmi troppo volevo semplicemente dare inizio a questa serie da domani qua sul canale youtube troverete quindi oltre 30 video che andranno a toccare tutti gli aspetti del mondo degli affitti brevi in maniera molto semplice senza troppo storytelling andando in maniera diretta mi raccomando commentate se avete domande perché potrò rispondere a queste domande o direttamente qua nei commenti o nei prossimi video se invece sei già consapevole di voler intraprendere un percorso serio e professionale nel mondo degli affitti brevi puoi prenotare una consulenza gratuita con il mio team semplicemente cliccando il link che trovi qua in descrizione è gratis e potrai avere appunto una chiamata con un nostro consulente che anche lui fa affitto breve potrà capire appunto se nella tua zona c'è richiesta e ti potrà spiegare quali sono le opzioni per entrare nella nostra accademia di formazione che ti ricordo essere la più grande d'europa per questo video è tutto mi raccomando iscriviti e attiva le notifiche premendo sulla campanella di maniera tale che verrai aggiornato ogni qualvolta uscirà un nostro nuovo video di questa serie e non solo io sono ludovico cianchetta vasca se ci vediamo nel prossimo video domani ciao